Nome. Nicolò. Alias. Metroman. Città da conquistare. Bari. Finalmente Metroman è arrivato nella città di Bari, lui viaggia attraverso metropolitane, tram, treni, il suo obiettivo è solo uno, quello di cantare e magari quello di far divertire la gente. Allora Metroman, finalmente a Bari, come nasce questa idea di andare in giro e far cantare la gente? È un modo per uscire dalla solitudine, insomma, Metroman è un simbolo, chiunque può esserlo, basta che ti compri un amplificatore, scendi nelle città e canti. Noi abbiamo visto tantissimi i tuoi video, tu sali nelle metropolitane, accendi questo impianto e poi canti per far cantare anche gli altri. Sì, non resisto, sento come un'eccitazione, capito, un'esibizione e quindi quando vedo una metro devo entrare dentro e cantare più forte di me e quindi mi serve gente ferma, l'importante è che sono fermi, poi che siano in metro, che siano fuori, sono io che vado dai miei fan, non sono loro che vengono da me. Andiamo un po' a cantare? Andiamo, prima che ci arrestano. Andiamo, prima che ci arrestano. Andiamo, prima che ci arrestano.